l'articolo 6. Abbiamo votato tutti? C'è qualcuno che non sta votando? Non mi pare, la votazione è chiusa. Presenti 330, votanti 306, seduti 24, maggioranza 154, fuori 220, contrari 86, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.